I sogni dell'Aquila, la voglia di riscatto del Chieti e le emozioni di un derby. La ventiduesima giornata del Giron F di Serie D, in programma domani pomeriggio alle 14.30, pronta a regalare grandi emozioni ai tifosi abruzzesi. Riflettori puntati sullo stadio Gran Sasso d'Italia, l'Aquila vola sulle ali dell'entusiasmo verso la partita di domani contro la Vigor Senigallia. La vittoria per 2-0 sulla capolista Campobasso ha rilanciato le ambizioni rosso-blu, venduti oltre 1.200 biglietti, a cui si aggiungeranno i mille abbonati, i ragazzi di Real Academy l'Aquila e tutti i tifosi che nelle prossime ore acquisteranno il tagliando. Cappellacci contro la Vigor Senigallia dovrà fare a meno del centrocampista Uali, fermato dalla stangata del giudice sportivo e costretto a saltare anche le prossime gare contro Atletico Ascoli e Tivoli. La società ha subito risposto con l'arrivo last minute del centrocampista 19enne Edoardo Mengani, di proprietà del Cerignola. Tutti a disposizione gli altri elementi della rosa aquilana, arbitra Rossini di Torino. Il Chieti ospita il Sora all'Angelini, momento delicato per i Neroverdi, reduci da due punti conquistati nel giro di ritorno e scivolati al settimo posto a meno 9 dalla vetta. La società però ha deciso di stemperare la tensione del momento interrompendo il silenzio stampa. Iezzo dovrebbe confermare il 4-3-1-2 visto Senigallia con Di Sabatino trequartista dietro al rientrante Fall e uno tra Alessandro Gatto e Sueva. In difesa la novità sarà la prima da titolare per il nuovo acquisto cucci posto dello squalificato Laziz. Cambio in vista tra i pali. Al posto di Vitiello dovrebbe giocare il fuoricuoto Antignani. Se così fosse, a centrocampo Iezzo potrebbe schierare Castellano-Forgione e il nuovo acquisto Gaie. Arbitra Torillo di Torino. Al Savini di Notaresco c'è il derby abruzzese tra i padroni di casa e l'Avezzano. Obiettivi diversi per le due formazioni. I rosso-blu di Mr. Bruno cercano una vittoria di prestigio contro i marsicani per continuare a viaggiare a distanza di sicurezza dalla zona play-out. I bianco-verdi puntano invece al colpaccio per proseguire la corsa verso la promozione. Roberti e compagni con 38 punti vedono la vetta lontana solamente tre lunghezze e sognano l'aggancio alle rivali per il salto diretto in Serie C. Arbitra Virgilio di Agrigento.